good morning anche se visto il tempo comunque proprio un buongiorno non è però e poi direi proprio buongiorno perché sono le tre e mezza mister master maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch it's January 3 2021 and it's Monday here in Naples 57 Fahrenheit round 14 Celsius and this means che non è cioè è quella giornata non è quella giornata veramente 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 fredda in questi giorni in questo periodo o comunque questa è sempre la mia percezione ripeto ancora una volta e lo metto sempre nella schermata finale invito a vedere il video che ho fatto sul freddo il pensiero video breve per il mio pensiero sul freddo qualche giorno fa per capire in che modo io lo combatto e perché non lo soffro magari come altre persone più di tanto ovviamente sempre in posti dove non c'è la temperatura come la città più fredda nel mondo che è Yakutsk questa città che ho scoperto qualche giorno fa di cui ho anche caricato il video in preview in cui viene mostrata bene diciamo che la temperatura massima raggiunta diciamo a livello di gradi minori è di meno 71,2 non vorrei sbagliare è una città impossibile un inferno di freddo direi lì certamente morire congelato neanche un secondo non potrei fare le pratiche che faccio pratiche appunto che potete capire in quella video che ho detto il mio video sul freddo sempre come da inizio anno il video sui pensieri al video del report comunque come vi vedo da un'altra parte Absolutely Once again Terzo giorno consecutivo We don't have Those beautiful blue skies And golden sunshine Totalmente coperto Si vede anche così Dico la frase caldo Ovviamente le cose posso sempre cambiare Un momento all'altro Comunque francamente La vede un po' dura Said this So from the mythical window With the colored curtain L'inquadratura oggi invece Permette di dire che è un po' più bella Anche se ovviamente è oscura And it's a green roller shooter Ovviamente è inutile dirlo con enfasi Visto il tempo Poi è vero Di questi tempi Cioè non abbiamo Those beautiful blue skies And golden sunshine Ma Di questi tempi Diciamo da Quasi tutto dicembre Inizio gennaio Abbiamo qualcos'altro Che però ci può salvare Abbiamo cioè Those beautiful Giant magical And golden And golden White Bowls And objects From the Christmas pine tree Che appunto Non saranno grandi Come those beautiful blue skies And golden sunshine Ma comunque Ci possono salvare Di questi tempi E poi un saluto Anche dall'età del mythical Window With the white curtain And gray roller shooter And finally From a mythical keyboard Yamaha digx 640 IPG 625 Ever A great day In all the people Follow the channel And the reports Mi raccomando Occhio al video Del pensiero Separato da questo Se siete interessati So again A great day In all these people And everyone too And everyone too Grazie a tutti.